Sai che Milano è stata capitale? E come Ravenna, per il quale ho fatto un video che ti lascio il link in descrizione e alla fine di questo video, anche Milano ha avuto l'onore di essere capitale in diversi momenti. Così come oggi, il concetto di capitale deve essere inteso come il centro di potere e prestigio della monarchia, e caratterizzato dalla presenza del sovrano. Conosciuta come Mediolanum, divenne la capitale dell'impero romano d'Occidente nel 286 d.C. Avendo problemi di gestione in quel periodo, l'imperatore Diocleziano decise di dividere i territori imperiali in due grandi aree, creando l'impero d'Occidente e l'impero d'Oriente. Diocleziano assunse il comando dell'impero d'Oriente e affidò al generale Massimiano la direzione dell'impero d'Occidente, affiancato da due vice-imperatori. Questo sistema di governo diviso fra quattro figure, due imperatori chiamati Augusti e due vice-imperatori chiamati Cesari, prese il nome di tetrarchia. Massimiano scelse Mediolanum come sede principale della sua corte per la sua posizione strategica. Situata infatti al centro di una pianura e vicino ai principali passi di montagna, era ben collegata dalle vie di comunicazione e garantiva spostamenti più rapidi. E così nel 286 i due imperatori Diocleziano e Massimiano, su un carro d'Avorio e d'Oro entrarono trionfalmente in Milano. In pochi anni Massimiano migliorò la città che divenne elegante, ricca e popolata, anche se molto più piccola rispetto a Roma. In seguito, proprio a Milano nel 313 d.C. l'imperatore Costantino firmò l'editto che garantì la libertà di culto a tutti gli abitanti dell'impero. Se vuoi ripercorrere alcuni dei resti di Mediolanum, li puoi trovare nella metropolitana del Duomo e sotto piazza del Duomo, per quanto riguarda i resti del foro romano sono sotto la chiesa di San Sepolcro, mentre i resti del teatro romano sono sotto il palazzo della Camera di Commercio, oppure la residenza dell'imperatore probabilmente era nei paraggi di Via Olmetto. Nel 568 o 569, l'Italia venne invasa dai Longobardi, una popolazione germanica proveniente dalla Pannonia, l'odierna Ungheria, che approfittarono della debolezza dell'impero romano bizantino. In breve tempo, i Longobardi conquistarono gran parte della penisola, come puoi vedere dalla mappa. Dopo la conquista e la morte violenta dei primi due re, Alboino e Clefi, i duchi Longobardi non elessero subito un nuovo sovrano. Successivamente, per controbattere la crescente minaccia bizantina, venne eletto re Autari, che stabilì le principali sedi del potere a Pavia, Milano e Verona, che divennero capitali elettive. Trovandosi in una posizione centrale nella pianura padana, Milano era un'importante crocevia commerciale, oltre al fatto che vantava di essere stata la capitale dell'impero romano, e poi sede della potente diocesi ambrosiana, inoltre era l'unica città con edifici pubblici di grande impatto. Per questi motivi, visse così un periodo di gloria tra il 604 e il 625, anche perché in quel periodo, Pavia che era la capitale, era diventata un costante centro di opposizione alla politica filocattolica e filoromana promossa dai Longobardi. Tra il 962 e il 1266, Milano divenne il luogo in cui venivano incoronati gli imperatori del sacro romano impero germanico, desiderosi di indossare la corona di ferro dei re Lombardi. Fu sotto il governo della dinastia dei Visconti, degli Sforza, ma anche di Ludovico il Moro che la città crebbe acquistando una notevole fama e prestigio tanto da diventare la capitale del Ducato di Milano. Con il primo arrivo di Napoleone Bonaparte, dal 1796 al 1797 Milano fu capitale della Repubblica Transpadana, il governo provvisorio instaurato dall'esercito francese in Lombardia e creato dal generale Napoleone Bonaparte dopo l'occupazione militare nel 1796, e che dal 1797 al 1802 confluirà nella Repubblica Cisalpina insieme alla Repubblica Cispadana. Quando Napoleone Bonaparte arrivò a Milano, i milanesi erano entusiasti perché speravano che gli ideali rivoluzionari francesi realizzassero i cambiamenti che desideravano dopo il lungo periodo di dominazione austriaca. Tuttavia, quando Napoleone se ne andò, nel 1799 Milano non riuscì a evitare il ritorno degli austriaci, ma quando Napoleone tornò e vinse la battaglia di Marengo, tra il 1802 e il 1805 fu proclamata la Repubblica Italiana Napoleonica, e Milano ne divenne la capitale. Il 26 maggio 1805, Napoleone si autoincoronò imperatore, e Milano fu dichiarata capitale del Regno d'Italia. Da allora, fu la sede del governo del Regno d'Italia Napoleonico fino al 1814. Alla caduta di Napoleone, con il congresso di Vienna del 1815 Milano tornò sotto il dominio austriaco non più come ducato, ma come capitale del neonato Regno Lombardo-Veneto istituito il 7 aprile 1815, e comprendente la Lombardia, il Veneto e il Friuli. Durante questo periodo, Milano emerse come uno dei principali centri del nazionalismo italiano, e su tutte si ricorda la celebre battaglia dei cinque giorni avvenuta nel 1848. Questo stato di cose perdurò fino al 1859, quando dopo la seconda guerra d'indipendenza, Milano entrò a far parte del Regno di Sardegna, che si trasformò poi nel Regno d'Italia nel 1861. Con l'unità d'Italia, Milano non venne scelta più come capitale, ma nel corso degli anni divenne uno dei centri commerciali e industriali più dinamici d'Italia, e oggi è conosciuta come una delle capitali della moda e del design a livello mondiale. A proposito, il nome Mediolanum deriverebbe dalle parole Medio e Planum, che significa in mezzo alla pianura, oppure pianura di mezzo. La sua fondazione risalirebbe al VI secolo a.C. da parte della tribù celtica degli Insubri. Secondo una leggenda però si narra che Mediolanum significherebbe di lana per metà. Bene, spero che con questo video hai conosciuto qualcosa in più che non sapevi e ti ringrazio per essere arrivato fino a qui. Quale di queste curiosità ti hanno colpito? Scrivilo nei commenti. E se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per essere sempre aggiornato su altri video di questo canale. Ecco qui a fianco puoi trovare alcuni video, ma se vuoi puoi cliccare anche direttamente sul mio canale e sceglierne altri con altrettante curiosità che spero apprezzerai. Il mondo è pieno di curiosità, scopriamole insieme.